Terrore in Egitto per un attentato che si è verificato in un governatorato a nord del Cairo. Secondo una prima ricostruzione, infatti una serie di esplosioni ha colpito mercoledì la sede della sicurezza nazionale a Shubra el-Khema. Per il momento il bilancio parla di sei persone ferite, ma evidentemente è un bilancio destinato ad aumentare, visto che potrebbero esserci anche delle vittime. Sono tre le bombe esplose, tra l'altro un black bloc egiziano ha rivendicato su una pagina Facebook le esplosioni. Ulteriori informazioni si avranno nel corso della giornata.